Cosa sta succedendo al Napoli secondo te? Ma guarda ne parlavo prima, sicuramente per quanto riguarda i risultati dispiace perché perdere non fa piacere a nessuno però comunque il Napoli è una squadra che ha giocato anche ieri, ha fatto la partita, ha comandato il gioco, ha preso due pali, due traverse sicuramente meritava qualcosa in più e penso che una volta che il Napoli recupererà tutti gli infortunati tornerà sicuramente a vincere